I carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno arrestato il 51enne Michele Coco di San Marco in Lamis, ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento seguito da incendio e fabbricazione e detenzione di esplosivi. A consentire l'identificazione del Coco, le immagini di una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso l'uomo mentre il 20 febbraio scorso dava fuoco a un veicolo. Dopo l'identificazione, i militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo tre potenti ordini esplosivi e artigianali contenenti pezzi di metallo in grado di provocare seri danni a persone e cose ed altro materiale incendiario.